Buonasera ragazzi e ben ritrovati in Geomakers, il canale dedicato a piccole recensioni e fai da te. Questo non sarà un video di unboxing, recensione, ma sarà un video piccolo, breve, giusto per invitarvi a iscrivervi al gruppo che ho creato Telegram. Il gruppo è di Geomakers, poi vi lascio il link in descrizione. Vi prego, se volete, aggiungetevi, iscrivetevi e da lì potrete proporre le vostre idee, i vostri progetti, ne potremmo discutere assieme, si possono postare foto, insomma è una maniera per ritrovarsi e proporre le proprie idee che poi possono essere d'aiuto, di spunto anche ad altri. Quindi, mi raccomando, se avete piacere, iscrivetevi a questo gruppo Telegram che ho creato. Possiamo proporre nuovi contenuti, possiamo proporre nuove idee, possiamo confrontarci, se ci sono dei problemi che non si riescono a risolvere da parte di altri utenti, ciò che non so io lo può sapere un'altra persona, è giusto un modo per aiutarsi l'un con l'altro, cosa che dovrebbe essere giusta tra makers. Ragazzi, allora mi raccomando, vi aspetto, iscrivetevi, lascio il link in descrizione, ci vediamo numerosi. Alla prossima un saluto caro da Joe Makers, mi raccomando, proprio a breve, l'arco di pochi giorni, faremo un unboxing di un laser fibra da 30 watt. Quindi, mi raccomando, restate sintonizzati, appena arriverà farò uno short che pubblicherò e poi provvederemo a fare un piccolo video di unboxing e poi lo proveremo. Di nuovo ragazzi, una buona serata a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al gruppo. Ciao ragazzi!